e ben ritrovati amici di yoga voce italia video pool per il draghetto zeta e jibanyan oggi siamo con fezz saluta fezz ecco lì proprio lui il draghetto che ha questa moneta speciale tu ti chiami fezz ormai non rompere questa moneta qua che si sbloccherà con la nuova mappa che uscirà il 21 luglio in teoria poi ci sarà il video anche su quello quindi anzi forse il 20 perché qua dice il 20 vabbè comunque uscirà la mappa con l'impossible stage nuovo che dropperà la moneta che servirà per sbloccare la seconda passiva del draghetto insomma cose in descrizione avete il canale telegram da mogul x link per abbonarvi robe andate in descrizione e si va subito dal vecchietto oggi perché dobbiamo andare da provare il vecchietto ci fa trovare tutto alla prima monti anche se nella live che avete visto sono stato molto fortunato il vecchietto è molto inutile il vecchietto no non offendere il vecchietto che dopo ci fa fare sette molti di fila tutte blu tu non offendere il vecchietto tra l'altro abbiamo preso da poco komasan vediamo un po' perché ci ho rifiuto degli spettrali non lo so non chiedetemelo dobbiamo avere anche abbiamo preso komasan eccolo qua che appunto vedrete il video a breve forse dopo forse prima non lo so come sarà l'ordine dei video comunque vai partiamo subito la prima multi troviamo una bella arcobaleno un arcobaleno e una oro nella oro c'è gibaino e nell'arcobaleno c'è lo z vai subito si parte no ok ora no no ora si aprono come on oro e qui c'è gibanya ti dico io si aprono con calma ovviamente si aprono con calma non come fezzle che apre tutto subito Tu apri tutto subito Tu apri tutto subito Non lo sai pullare Fai tu il video Cioè abbiamo messo 20 minuti per farli Mettere il video e poi non è riuscito nemmeno a farlo Se ne piglia d'oro Whisper Whisper di Natale Bello Ah lui io metto un Whisper di Natale nella crank Andiamo con la seconda Ti prego non farci spendere troppi punti Già che non siamo molto in vena Ok un'altra oro Più di due ok Più di due Va bene va bene va bene Qui lo troviamo Sì lui è già con vinto Sì 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 Perché io so già cosa c'è dietro la biglia Prima ancora che la apri Infatti In questa c'è un rango S In questa c'è Gibanyan guardate Gibanyan Guardate Gibanyan Eccolo qua Gibanyan B Proprio lui Chi è te il Gibanyan SSS ma Gibanyan BSS Si chiama Gibanyan BSS E qui c'è Signori Draghetto 3 2 1 Draghetto No Cubi No Cubi Cubi Ora ci fa parturire il Draghetto Che ti serve Mega Booster con una passiva molto interessante Alla passiva delle sfere bonus Poi con la moneta gli sblocchi Un'altra passiva che parte già a caricare Pi qualcosa Dai Faccelo trovare per favore La biglia d'oro Allora l'ha trovato un altro nostro coetaneo Che non citeremo perché noi non facciamo più città Gli streamer falliti No So scherzo Scherzo Segreto Insomma Fai sboccare Fai sboccare Insomma Dai Cioè Questi qua sono i punti con cui abbiamo finito la live Tutti i punti sfatti In due giorni di live Già persi nel nulla Arcobaleno Arcobaleno Ti prego Ok Whisper Whisper Ma Due Arcobaleno Buono 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 questa multi Buono La scritto Sincero la scritto Giuro che se non c'è Draghetto Ma no Ma capisci che se non c'è draghetto Entere queste tre biglie Di su stallo Funi funi Di su stallo Funi funi in diretta Ok Un altro Gbanyan Dai Dai gioco Da quale parte Sopra 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 Ok Quello qua Che paura Che paura Guarda ce ne fa trovare un altro Bellissimo lui Bellissimo Bellissimo Con la spada Spettacolo Spettacolo Adesso Adesso in quest'altra via Cosa troviamo Seconda te Un altro draghetto Un'altra nevaria Un altro sergente quadro Oppure 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 lo z Del prossimo evento Che ancora deve uscire Z Del prossimo evento Che deve ancora uscire Ovviamente Guarda Ma guarda Lo sapevo già Guarda Lo sapevo già Dubbio draghetto Non è come il fail Dell'altra volta Di Benimaru Madonna Non faccio Non fammelo ricordare Ok Abbiamo finito In pratica Abbiamo finito Siamo Troppo forti Io sono troppo forti L'avevo fatto tutto io Come ha detto Stefina Sei inutile Ma non mi fai entrare mai Ma ci credo Fez Fez Sei inutile Dai Facciamo una petizione Nei commenti Per bannarlo dal canale Ora dopo No hashtag Colpa di Shogu Perché non trovo Cioè Trova tutto dopo mille anni Colpa di Shogu Ho trovato tutto subito Colpa di Shogu Ho trovato tutto subito Stavolta Non ti puoi lamentare Sì Tutto subito Quindi abbiamo finito qua In descrizione Vi ricordo Canale Telegram Si stiamo con l'X Abbonatevi Un euro In descrizione E noi ci vediamo Ad un prossimo video Saluta Fez Eh vabbè Bye bye Ok Ci vediamo Un prossimo video Che sarà La guida Dell'autopreaker O forse anche Sangokushi Stiamo facendo qualcosa Un saluto a Fez E da Ugosh Addio Ugosh Addio